Ciao a tutti ragazzi, sono io e Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori Oggi vi insegno cosa sono e come fare gli shorts Gli shorts sono dei video di durata inferiore a un minuto, cioè 60 secondi Se fate uno shorts deve essere con la massima durata di 59 secondi Se fate un video di 60 secondi, cioè di un minuto, youtuber non lo considera shorts Quindi al massimo 59 minuti e deve essere fatto in formato verticale Perché se lo fate orizzontale come sto facendo in questo video non ve lo considera Quindi per essere uno shorts deve essere con tempo minore di 60 secondi Quindi al massimo 59 secondi e formato verticale E per pubblicare uno shorts ragazzi pubblicate come se fosse un video come tanti gli altri Mettete il titolo, la descrizione come gli altri video Adesso vi faccio vedere come si vede dal mio telefono uno shorts Aspettate un attimo Questo è come dal mio telefono si vede uno shorts Ciao ragazzi Avrei riuscito a un video sul canale su come fare e cosa sono gli shorts Per chi non li sa fare oppure non sa proprio cosa sono Andatevelo a vedere, ciao Allora in pratica notiamo subito una cosa Se guardate vicino al video nel mio telefono c'è tipo una striscietta rossa più o meno E a fianco alla scritta shorts Appena ci cliccate sopra viene fuori così da me Ciao ragazzi Come vedete non è come negli altri video che vi viene fuori la descrizione a fianco Tutti gli altri video che vi consiglia youtube Magari che non c'entrano niente con questo argomento No, vi vengono fuori i tre pallini che sono la descrizione Segnare video e tutte quelle cose lì Poi like, dislike, condividi Nel mio telefono non ci sono però ci sono anche i commenti Poi Poi in pratica vedete perché li considero solo verticali perché viene così e si vede Invece se fosse orizzontale non lo potrebbe considerare shorts E poi mi piace anche molto che essendo una shorts non ci siano a fianco tutti i video che vi consiglia youtube Magari che non c'entrano niente E vi faccio rivedere il video Questo è quello che si vede dal mio telefono Ciao ragazzi A breve uscirò un video sul canale su come fare e cosa sono gli shorts per chi non li sa fare oppure non sa proprio cosa sono Andatevelo a vedere Ciao Ciao Quindi aspettate un attimo Quindi ricapitolando per essere uno shorts deve essere di durata al massimo 59 secondi Deve essere fatto in formato verticale E niente ragazzi questa era la spiegazione di cosa sono o come fare gli shorts E niente al prossimo video Ciao 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 Ciao